www.marizopoli.it le scelte finanziarie degli italiani. Il 26 gennaio a Roma si è tenuto nell'auditorium della Consob ha presentato nell'ambito dell'osservatorio dei primi quattro appuntamenti dedicati all'approccio alla finanza e gli investimenti delle famiglie italiane su un campione di 1436 intervistati nel mese di giugno luglio del 2022 si evidenzi che risulta complessa la gestione delle finanze gli intervistati sono sempre più consapevoli della necessità di innalzare la propria conoscenza in ambito di educazione finanziaria è in calo la pianificazione all'interno del bilancio familiare e tra le donne continua a essere presente con la cosiddetta ansia finanziaria quindi porto qui in calcio al video il link della registrazione della data streaming dell'evento e il report delle scelte dell'investimento degli italiani. Alla prossima e una buona lettura